Quali le due principali tipologie di leader? Leader del compito, che privilegia il rendimento del gruppo rispetto alla qualità delle relazioni tra i membri, e leader socio-emozionale, che cerca di salvaguardare il compito, la performance e al tempo stesso di mantenere una buona qualità dei rapporti interpersonali all'interno del gruppo. Quali sono gli effetti del gruppo sul comportamento individuale? Il primo è la facilizzazione sociale, la presenza di altre persone si traduce in un vantaggio di prestazione, quindi basta la semplice presenza di altri per favorire l'attuazione di un compito. L'inibizione sociale, la presenza di altre persone, invece in questo caso si può tradurre in uno svantaggio di prestazione. L'inerzia sociale, in assenza di una valutazione delle prestazioni individuali, il singolo mette scarso impegno nello svolgimento del proprio compito. La deindividuazione, il singolo ha una sensazione di anonimato che allenta il controllo sul proprio comportamento fino a produrre azioni impulsive, atipiche o devianti.